Al teatro Diana di Napoli, nel corso di un formidabile evento, con tantissimi ospiti, scrittori, giornalisti, personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura, tra gli altri Gigi Marzullo, Nino Daniele, Rosa Patrone, Generale dei Carabinieri, Gennaro Famiglietti, Console, Ottavia Piccolo, ha ricevuto il premio della critica anche il battipagliese Leonardo Massia per il suo romanzo Il Sole d'Argento. Edito del gruppo Rizzoli, tale prestigioso riconoscimento nell'ambito del concorso internazionale dell'arte letteraria Le Nove Muse, mi ha riempito il cuore di gioia e conferma il gradimento dell'opera, ha ribadito lo scrittore battipagliese. Il nuovo romanzo di Massia giunge dopo la menzione speciale di merito a Montecatini Terme, un altro concorso letterario, Il Canto di Daphne, e dopo il premio alla cultura Chiedi. Il romanzo è ambientato a Napoli, una città fantasmagorica e unica al mondo nei vicoli e nelle piazze attraversati da millenni di storia.